Le foto che li ritraggono insieme, il caudillo e l'uomo indicato da Franco come l'erede della corona spagnola. Un sodalizio di transizione sino alla morte del dittatore avvenuta nel 1975. In coronatore, Juan Carlos ha dunque cavalcato lo zeitgeist, lo spirito dei tempi, avviando la transizione dal regime alla democrazia in Spagna. La sua consacrazione avvenne il 23 febbraio 1981, quando un gruppo di nostalgici del franchismo cercarono di mettere in scena un colpo di Stato. Con il paese in bilico, Juan Carlos tenne un discorso che servì a calmare la cittadinanza e ad accrescere la sua popolarità. La corona, simbolo dell'unità della patria, non può tollerare in alcun modo azioni o atteggiamenti di persone che cercano di interrompere con la forza il processo democratico, ha detto. E in Spagna erano tempi nei quali non era necessario essere un sostenitore della monarchia per essere definito Juan Carlista. Il legame con i presidenti è stato sempre molto stretto, resta negli annali quel «perché non stai zitto» pronunciato dal re all'indirizzo di Hugo Chavez, che aveva attaccato a Snar. Ma il senso di Juan Carlos per lo spirito dei tempi è definitivamente perso quando cinque anni più tardi, con milioni di spagnoli che soffrono la crisi economica, il Reva caccia di elefanti in Botswana con la sua amante, una caduta vera e di stile per il cacciatore reale. Le scuse non sono sufficienti, il suo appeal e la fiducia nella monarchia cominciano a venire meno. Un declino che culmina con la sua abdicazione nel 2014, ma la sua rinuncia al potere, accompagnata dalla perdita dell'immunità, non lo ha scoraggiato. Le indagini della procura svizzera sui conti nascosti in quel paese, le indagini per evasione fiscale, corruzione e riciclaggio, l'origine sospetta di una parte della sua fortuna hanno portato all'esilio del re un tempo, il più amato degli spagnoli.